La sicurezza è come la salute, per preservarla si accetta tutto o quasi, ma siamo veramente disposti a sacrificare libertà e diritti fondamentali sull'altare delle misure di polizia contro il terrorismo sulla quale voteremo il prossimo 13 giugno? Si tratta di una legge gomma più, ma la si può interpretare in modo talmente elastico da minare le basi dello stato di diritto in nome della prevenzione. Si usano termini vaghi come il potenziale, il supporre o l'intendere. All'articolo 23 si legge che per potenziale terrorista si intende una persona che si suppone commetterà attività terroristiche, vale a dire azioni che si intendono commettere. Viene poi pericolosamente anacquata la nozione stessa di terrorismo. Finora comprendeva l'uso di gravi violenze, adesso basta propagare paura e timore. E così gli attivisti per il clima che diffondono lo spettro della fine del mondo possono entrare nel mirino della prevenzione contro il terrorismo. Anche l'Udc può subire la stessa sorte, basta addittare i suoi manifesti o proclami che fomentano la paura per gli stranieri. Non è un caso se un falco dell'Udc come Lucas Reimann si dissocia dal suo partito affermando che con questa legge anche Guglielmo Tell diventerebbe un potenziale terrorista. Non meno di 60 professori di diritto mettono in guardia da gravi restrizioni ai diritti fondamentali e alle libertà individuali. In effetti basta una supposizione per consentire alla Polizia federale di adottare misure che vanno dalle limitazioni alle libertà di movimento fino agli arresti domiciliari. Alcune di queste sanzioni possono colpire persino fanciulli di 12 anni. Una violazione dei diritti dell'infanzia denunciata da diversi esperti delle Nazioni Unite. Un accanimento oltretutto superfluo. Già oggi sono in vigore provvedimenti penali e competenze dei servizi segreti che permettono di sanzionare atti preparatori, finanziamenti e propaganda di attività terroristiche. Misure che avrebbero permesso di intervenire contro gli attentatori a Morge e alla Manorra di Lugano che hanno fatto un morto e due feriti. Entrambi erano in effetti già noti alla Polizia ma sono sfuggiti alle loro maglie. Il fatto è che neppure uno Stato poliziesco ed autoritario può garantire una sicurezza assoluta. Una pia illusione collata dal populismo politico perché fa presa sull'opinione pubblica. Grazie. Grazie.